La Cremonese porta a casa tre punti fondamentali per la promozione diretta. Nello scontro diretto col Como, nonostante la superiorità numerica dopo 15 minuti per l'espulsione di strefezza, la Cremonese ha faticato e non poco a trovare la via del gol. Probabilmente dovuto al fatto che il giropalla della squadra grigiorossa non era fluido e veloce per arrivare da una parte all'altra e trovare la possibilità dell'uno contro uno, soprattutto sugli esterni. La Cremonese che però ha trovato il gol alla fine del primo tempo su rigore, questo però non ha demoralizzato il Como che in 10 contro 11 ha trovato il pareggio. Bravissima la Cremonese però a non mollare, non abbattersi a questa situazione ed è riuscita con un gran gol di Zanimacchia a portare a casa tre punti fondamentali soprattutto per il morale ma anche per la classifica. In più la dimostrazione che questa squadra non molla mai sono i due risultati di Modena e Como come sono arrivati al minuto in cui sono arrivati. Vuol dire che la squadra non molla mai, vuole arrivare sempre al risultato pieno. Adesso arriva una trasferta difficile perché sul Tirol ha un obiettivo completamente diverso e ha un organico completamente diverso ma ha bisogno di fare punti per non trovarsi nella zona calda della retrocessione. Quindi sarà una partita da battaglia per la Cremonese, dovrà avere pazienza perché il su Tirol farà una partita difensiva e cercherà di far male in contropiede alla squadra grigiorossa.